Per questi momenti belli per la vita di ognuno di miei fratelli Signore aiutaci ad assimilare la verità Signore aiutaci a camminare per la verità che uno spirito di rivelazione questa notte possa governare la nostra vita Abre gli occhi al nostro intendimento Te amiamo Ci mettiamo nelle tue mani E lasciamo ogni carico Ogni stanchezza E mettiamo il nostro essere interiore affinché possa essere edificato Nel nome di Gesù Amè E quindi abbiamo finito prima nel libro dei Romani Mi sembra che l'ultima cosa che abbiamo visto sono le tre eredità Abbiamo parlato di quello che è vivere nello spirito E diciamo che bisognava ricevere lo spirito di adopzione Quindi vi volevo parlare di qualcosa che è molto importante Sappiamo che oggi molte persone stanno mettendo in ordine la propria vita Perché molte persone stanno venendo adottate Dentro del corpo di Cristo Molte persone stanno riconoscendo una paternità E questo stanno mettendo in ordine E questo stanno mettendo in ordine A pesar di che questo è sumamente importante Pensando che questa cosa è molto importante Dobbiamo però riconoscere che il disegno È che la gente È che la gente Tenga o se desarrolle Dentro di un ambiente di famiglia sano È che le persone si sviluppino All'interno di un ambiente familiare sano E abbiamo parlato Stavamo parlando Del remedio della paternità Ma la gente oggi Tiene che nascere in le iglesi Però le persone devono nascere nella chiesa E la cosa migliore è che non passino male Per il trauma di separarsi dal padre o dalla madre Vediamo della Bibbia un mistero E alla stessa maniera Questo mistero è una priorità Quando Dio ha creato l'uomo Dio ha detto una parola Per questo motivo l'uomo Lascerà suo padre e sua madre E si unirà con una donna Durante molti anni abbiamo parlato Abbiamo parlato di ciò che sappiamo Della unità matrimoniale E la Bibbia dice Saranno una sola carne Stiamo parlando di un livello di fusione Entre un uomo e una donna Io voglio che voi questo Lo trasportate ad un livello ministeriale Molti di voi che siete qui presenti E i figli di coloro che sono qui presenti Cresceranno E dovranno prendere una donna Una iglesia Una chiesa Per moltiplicarsi loro stessi È una legge natural La gente deve crescere E deve prendere una esposa Una iglesia Una chiesa E deve generare altri fichini Così funziona la chiesa Però c'è qualcosa Cosa a cui molto spesso Non prestiamo la dovuta attenzione Credo che la maggior parte Dei uomini Dei ministeri Che hanno salito Che sono saliti A tomar una mujer Che sono usciti Per prendere una donna Osea a fondare una famiglia Un ministerio Un ministerio Non gli è andato bene Perchè 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 Con una iglesia Con una chiesa E inizio a crescere E all'improvviso Voglio uscire fuori E fare una chiesa E succede questa cosa Vado a Roma E mi accorgo Che la gente Non se unifica conmigo Che le persone Non se uniscono Non se unificano conmigo E non sono uno conmigo Non me posso multiplicare Non mi posso multiplicare O meglio dire in questa maniera Non posso portare frutto Non multiplico Non mi multiplico E non riempio niente Genesi capitolo 1 Il verso 28 Portare frutto Multiplicazione E essere ripieni Non posso portare frutto Non genero Non genero figli Quindi Mi rendo conto Che il problema E che non sono stato uno Con mio padre Mi state capendo Il fatto di non essere stato uno Con il mio padre Quando salgo a la calle Quando vado per la strada La gente non si può unire conmigo Le voglio dare un esempio Nel mondo naturale Tenemos due tipi di figli Abbiamo due tipi di figli Higli biologici Figli biologici Che seranno uno con i sui padri Che sono uno con i sui padri Tenemos otro tipo di figli Però abbiamo un altro tipo di figli Che sono distanti Che sono più distanti Che sono più distanti Quelli che sono uno con i sui padri Quelli che sono uno con i sui padri Tienen un alto Un nivel Muy alto De probabilità Hanno un livello Molto alto Di probabilità Che non si unifichi Che non si unifichi Che anche la sua famiglia Che siamo uno con i sui padri Un solo cuore Devo trovare questa unità Questa unità Non si trova da sopra verso giù Si trova da giù verso l'alto Se Vincenzo è il mio padre Non deve lui cercare unità con me Io sono quello che devo cercare a lui come padre Mi state capendo? Non funziona Come credono le persone che funzionano Che l'apostolo o il pastore Deve stare dietro di me No, no, no Io sono il che devo procurare la unità Io devo essere colui che deve cercare di creare una unità Io devo cercarlo Io devo procurarlo Devo procurarlo Per fare in modo che questa unità si crei realmente Quindi la unità È fondamentale per il bene del ministerio Pareciera Sembra Che ci sono molti misteri incalcolabili per l'uomo Per esempio Nella Bibbia Abbiamo visto un uomo come Eliseo Che si incontra con Elia Si incontra con Elia E voi sapete che Elia aveva tantissimi discepoli Sin embargo hay uno Senza dubbio ce n'è uno Che dice la Bibbia Che le pidì una doble porzione del suo spirito Che gli aveva chiesto una doppia porzione del suo spirito Ora Quando volviò Eliseo Quando ritornò Eliseo Se incontrò con los hijos de los profetas Vive tutti i figli dei profeti E gli hanno detto Il spirito di Elia sta sopra di lui Non era il spirito santo Non era il spirito santo Tampoco dice la unzione E neanche l'unzione Dice il spirito di Elia Dice il spirito di Elia Quindi Quando Elia è stato preso Lo spirito di Elia non è stato preso dalla terra E è andato via il suo corpo La sua anima Ma il suo spirito Sigui operativo nella terra Continuò ad operare sulla faccia della terra Operando Operava Nella generazione successiva Mire Prendete attenzione a questo Fate attenzione a questo messaggio L'apostolo Paolo Escrive una carta a los tesalonicenses Ha scritto una carta ai tesalonicenses Hablando del final della iglesia en la tierra Parlando della fine Della chiesa sulla terra E la resurrezione de los muertos E della resurrezione dei morti Si acuerda di ese passaggio? Vi ricordate di questo passaggio? L'apostolo dice L'apostolo dice Y nosotros E noi Los que hayamos quedado Quelli che siamo rimasti Seremos arrebatados en aquel día Saremo Trasformati In un solo giorno Si acuerda di ese passaggio? Vi ricordate di questo? Y nosotros E noi Los que hayamos quedado Que siamo rimasti Si usted lo lee a Pablo Se tu lo leggi Pablo Lui sta dicendo Lui sta dicendo Che nel tempo del rapto Che nel tempo del rapimento Lui sarà sulla terra Dice Y nosotros Dice noi Los que hayamos quedado Que siamo rimasti Quindi voglio fare una domanda El apostolo Pablo Se ne ha dato Però il suo spirito Sigue operativo Ha continuato ad operare Y aclara algo Y a fare cose De che nel final De la etapa De la iglesia Nella fine De la etapa De la chiesa Che mistero c'è Nella paternità Dijimos nosotros Che antes De recibir la herencia Necesito recibir Il legato Abbiamo detto Che prima Di ricevere L'eredità Devo ricevere Il legato La habilità La habilità La capacità A ver Lo mostramos In un ejemplo Lo abbiamo visto Con un esempio De repente Vincenzo È un carpintero Vincenzo Per esempio È un carpintero E qui dentro È un taller Di carpinteria C'è un negozio Di carpinteria Un'officina Di carpinteria E quindi Vincenzo Lascia a suo figlio Questa carpinteria La miameria Però il suo figlio Non sa lavorare Il legno Riceve l'eredità Però non si è mai Occupato Di ricevere Le capacità Del padre Perché Perché La gente Recibe Herenza Perché Le persone Recibe Una heredità E non Recibe Le gato La gente Que solo Recibe Herenza Le persone Que solo Recibe Una heredità E gente Materialista E interesada Sono persone Che hanno Interesse Solo Materialista E interesados En lo material Interesse Del material Perché 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 Quiero Solamente Lo tangible Perché Voglio Soltanto Quello Che posso Toccare Lo palpable Quello Che posso Palpare Però Non ho mai Prestato Attenzione Al funzionamento De mi padre Come mio padre Funzionava E' uguale Succede Anche Nel mondo Biologico Sono persone Che vanno A vedere Il padre Una volta All'anno Però Quando Mueren I Padre Vanno Piangendo E Combattendo Più che Piangendo Vanno Visticiandosi Per L'eredità Voglio Voglio Il materiale Però Non Voglio L'abilità Del padre Quando Io Faccio Questo Con Un uomo E Lo sto Facendo A Dio Guardate In questa Maniera Io Sono Un Ministerio E Io Sto Sotto La Cobertura Della Apostolo E Quindi All'improvviso Io Voglio Prendere Persone Della Apostolo Voglio La Su Heredità Voglio Las Personas Voglio Le Offrenda Voglio L'offrente Voglio Il Reconocimiento Voglio Essere Riconosciuto Voglio Diezmos Voglio Diezme Però Non Voglio Il Suo Consiglio La Direzione La Amonestazione Le Sui Monimenti La Revelazione Le Suo Liberazione Es Fundamental Recibir Il Legado Recibir Le Abilità Recibir Lo Spirito La Gente Está Más Ocupada En Recibir Lo Material Le Persone Sono Tanto Ocupate Per Recibir Del Material Perché Abbiamo Evangelici Così Materialisti Perché La Abituata Quando La Gente Llegò All Evangelio Se Trajeron Con Promesas Se Trajeron Con Diferentes Tipos De Promesas No Se Trajeron De Forma Incondicional Veni A La Iglesia Che Dios Te Sana Veni A La Iglesia Che Dios Te Prospera Veni In Chiesa Che Jesus Te Aiuta A Prosperare Vieni In Chiesa Che Dio Te Aiuta Con La Famiglia E Quindi Le Persone Vengono In Chiesa Non Per Dar Sino Para Recibir Con Esa Gente Será Difícil Funcionare Dio Piense En Sus Hijos Naturales Piense Come Un Tu Figlio Natural A Tu Figlio Natural No Les Habla Primero De La Herencia Usted Primero Les Enseña A Hic Y Después En Las Décadas Usted Se Sentara A Hablar Con Ellos De Recibir Herencia O No Ahora Nosotros En La Iglesia Hemos Funcionado Al Reves A La Gente Le Hablamos De Herencia A Les Person Le Promettiamo L'Erendita Le Enseñamo A Arrebatare L'Erendita Le Enseñamo A Prendere L'Erendita Pero No Le Enseñamo Primeramente A Ser Hijo Pero No Le Enseñamo Ad Figgio Entonces Después Tenemos Gente Sumamente Materialista Que Sono Solo Materialista Esos Hombres Llegan Al Ministerio Después Y La L Idea Es Simplemente Lo Material Es Soltando Del Material Ellos Están Pensando In Gente Stanno Pensando Alle Persone Non Con Corazón De Padre Están Pensando Per Il Material Están Pensando Alla Fama Están Pensando Che Gli Diano Un Pulpito Per Predicare Mi Sta Comprendendo Quindi La Cosa Più Importante In Questo E Applicare I Principi Che Tienen Che V Con Esa Honra Che Hanno A Che Vedere Con L'on L'on Che Che Leímos Nosotros En El Libro De Hebreo Capitulo 12 Verso 23 Se Acorda De La Congregación De Los Primogenitos Que Están Iscritos En Los Cielos Y Dijimos Número Uno Número Uno Del Que Estaban Escritos Nel Libro La Vida Que Estaban Escritos Nel Libro Los Hechos Nel Libro De Opere Y Tercero Nel Libro De Que Honran El Nombre Nel Libro De Que Onorano El Nombre Del Signore Lo Mencionamos En El Libro De Malakia Capitulo 3 Verso 16 16 Entonces Ahora Piense Por Un Momento Quindi Pensa Un Ante La Honra L'onore Hala L'Spirito De Un Omre Attira Lo Spirito De Un Uomo L'on 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 Si Ativamos Si Nosotros Hoy Día Se Noi Oggi Queremos Attivar Lo Espiritual Vogliamo Attivare Lo Spirituale Dobbiamo Perché Perché Non C' Di Che Questo Uomo Mi Possa Dare A Me Lo Espiritual le cose spirituali se io non le vado a dare il materiale mi state capendo? si entiende? l'apostolo Pablo dice parlando dei diritti di un apostolo se io sembrerò a voi lo spirituale che cosa vado a raccogliere io? dovrei raccogliere il materiale? dice l'apostolo se io sembrerò lo spirituale è molta cosa, preguita che io coseche lo materiale? si ricorda di questo? me lo vuoi spiegare di un'altra volta se io sembrerò lo spirituale è molta cosa che è molta cosa tanta cosa una cosa grande che io reciba che io devo ricevere lo materiale? il materiale è spagliato chiedere il materiale? si sta entendendo? mi state capendo? piense per un momento pensate un altro che quando la gente viene al altar quando le persone vengono al altar con lo materiale con il materiale normalmente la gente normalmente le persone la gente viene con sentimientos encontrados vengono con sentimenti con sentimientos equivocados sbagliati mucha gente va disgustata molte persone vanno disgustate mucha gente va con sentimientos contrarios vanno con sentimenti contrari ogni volta che vengono avanti il più grande livello di guerra spirituale il più grande voi lo andate ad affrontare nel momento in cui bisogna dare in questo momento voi vedete persone spirituali però quando si parla dell'offerta là iniziano ad arrivare i conflitti cominciano i conflitti interni le voglio raccontare una cosa Dio deve parlare con un uomo come Abramo e gli insegna prima a dare l'offerta gli insegna la decima e terza cosa gli insegna a dare a Dio la sua propria eredità la primizia Dio gli ha detto dammi tuo figlio e la Biblia dice erenza di Jehovà sono i figli e la Biblia dice che eredità di Dio sono i figli si o no? è vero o no? ora piense por un momento firmate un attimo e pensa entonces Dio le sta dicendo a Abramo Dio sta dicendo a Abramo 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 io ti farò padre di moltitudini la vuoi questa eredità? la vuoi questa eredità? la vuoi questa eredità? la vuoi questa eredità? una grande eredità? te voi a ser heredero del mondo ti vuoi fare ti vuoi raccogliere la eredità del mondo se entiende eso no? perché erenità di Jehovà sono i figli perché i figli sono l'eredità di Dio si te doy oggi nostro padre chi è di la fede? nostro padre della fede chi è? chi è oggi? è Abramo ora piense por un momento pensa un attimo perché Abramo possa essere stato il padre della nostra fede? tuvo che subir al monte Moria e dovuto andare sul monte Moria e lasciare la sua eredità e quindi Dio nella stessa montagna chiamato il Golgota chiamato il Golgota ora è la sua eredità lì è dato la sua eredità a suo figlio stanno comprendendo? stanno comprendendo? e quindi se sarebbe stato qui Abramo con noi Abramo ci avrebbe detto che il segreto suo fu dare a Dio la sua propria eredità perché Dio così gli potrebbe dare la eredità di Dio sa come funziona questo? eredità eredità per eredità si entiende no? mi capite? io suelto mia eredità io do la mia eredità e quindi Dio attraverso quest'uomo mi suelta la sua mi dà la sua il grande problema il grande problema per che io possa ricevere l'eredità di un uomo di Dio è l'amore incorrecto sbagliato io devo avere il mio amore messo nello spirituale che lui ha però la Biblia dice però la Biblia dice che la raiz di tutti i mali è l'amore per il materiale mi state capendo? per questo l'apostolo Paolo dice tutto quello che io ho lo tengo per estiércol ce l'ho per? come spazzatura lo tengo per estiércol ce l'ho come spazzatura per che serve il estiércol? per cosa serve la spazzatura? sirve per qualcosa? serve qualcosa? no, è servito che? servito dejare per tirarlo? per tirarlo no? no il estiércol serve? serve qualcosa? sabe per che serve? sa cosa serve? per abonare un arvo per... con chimera con chimera allora non sta parlando di spazzatura sta parlando di letale di letale e serve per concimare un albero si entiende no? state capendo? piensa un attimo che l'apostolo Paolo gli sta insegnando io le siembro lo spirituale io semino nello spirituale voi dovete seminare a me con materiale le cosecho lo materiale io raccolgo da voi il materiale questo è il principio che ha parlato Paolo questo è il principio di Paolo che succedeva nella Chiesa degli Atti? ve lo ricordate? se acuerda a te? ve lo ricordate? tutto insieme tutto uto il materiale tutto unito dice che lo materiale dice che le cose materiale venivano e lo portavano ai piedi degli apostoli se acuerda di questo? ve lo ricordate questo? io voglio che uite piense per un momento pensate o no che può muovere che cosa può muovere a un essere umano ad un essere umano a tener una propietà ad avere una propietà e traerla all'altare portarla all'altare che può muovere a un hombre che cosa può muovere un uomo a fare questo? la necessità della gente in la calle i bisogni delle persone per la strada? che? che cosa? lo spirito spiegamelo spiegamelo il principio di Dio è dare e quindi è lo spirito di Dio che vuole andare muove muove al dare non so se mi sono spiegato perché adesso lo spirito di Dio non può muovere le persone a fare la stessa cosa? o è comune in l'iglesia di oggi? o succede anche oggi che tutti vengono e spettano le cose non so se mi sono spiegato i bisogni degli apostoli come? oggi è il contrario ok quindi non ha che ver con il spirito santo quindi questo non ha detto che fare con il spirito santo perché se fosse per il spirito santo lo sarebbe anche oggi sabe qual è la differenza? sabe qual è la differenza? che la gente quella persona sabia lo che hacía quando venivano all'altare sapevano quello che stavano facendo oggi la gente oggi le persone non sanno cosa significa venire all'altare la gente non lo sabe la gente quando un uomo la chiama all'altare la gente oggi quando un uomo oggi ti fa una chiamata all'altare e che in avanti e che in avanti pensano che un uomo gli sta chiedendo qualcosa la gente cree che l'uomo di Dio le persone pensano che un uomo di Dio necessita di qualcosa mi state comprendendo? ora pensate un momento che quando gli uomini di Dio venivano all'altare capítulo 4 il libro lo ha fatto verso 35 in voi viene un uomo arriva un uomo si chiama Giuseppe che era un levita della nazione di Cipro e viene all'altare si ricorda lo che tenia sapete cosa aveva lui? si ricorda lo che trago? cosa aveva portato non ve lo ricordate? non vi ricordate questo? Barnaba era Barnaba si ricorda? in italiano Barnaba sì sì però non si chiamava per non avere ahi si chiamava José prima si chiamava eredità trago eredità e quanta eredità aveva? quanta eredità aveva? quantas? aveva un campo tenete un campo però quanta eredità quanta eredità di eredità? aveva un campo dice la parola si quante dice quante ne aveva di eredità? una sola perché da una quando tengo varie perché quando io ne ho tante però dar una quando tengo una cioè dare una quando io ce ne ho tante non è un problema ma darne uno quando ne tengo solo una ora pensa un attimo a vendere la sua casa e portare tutto ai piedi dell'altare a chi? a chi? per il Dio per il l'uomo di Dio la paternità la figliolanza dice per ricevere l'erenza spirituale del suo padre e la riceviò? la ricevuta? si gli cambiarono il nome gli hanno detto tu non ti chiamerai più Giuseppe ti chiamerai Barnaba padre di consolazione che lo che fu Barnaba? che cosa fu Barnaba? che fu? dove dice che fu un apostolo? lo dice negli altri negli altri Hechos capitolo 14 verso 14 capitolo 14 verso 14 dice gli apostoli Barnaba e Paolo Barnaba fu un apostolo dove le soltarono l'apostolato? dice metterle il suo apostolato? in quel momento in cui offre il campo e la Dio gli dice il ministerio dell'apostolato per questo gli ho andato attraverso un apostolo stai capendo lo che stai capendo lo che movia la gente a traer sugerenze quello che ha mostrato le persone a portare la sua eredità all'altare per questo oggi ci sono altre persone che non si può sviluppare nel ministerio perché sono come Anania e Saffira che inmediatamente dopo nel capítulo 5 vogliono copiar quello che ha fatto gli è piaciuto quello che ha fatto Barnaba quello che hanno fatto a Barnaba e quindi anche loro vogliono fare la stessa cosa però prendono una parte per loro e vogliono tentare lo Spirito Santo e invece di portare una eredità per la vita hanno portato una eredità per la morte mi stai capendo ora pensa un momento pensa un attimo quindi io vengo al altare come vino Abraham come è venuto Abraham e dejò sua herenza per ricevere la sua herenza come vino Bernabé come è venuto Barnaba e trae sua herenza e recibe la herenza si acuerda Gesù con il joven ricco vi ricordate Gesù con il giovane e ricco a cosa vi assomiglia giovane e ricco lui aveva lavorato tutto quello che aveva se l'aveva guadagnato aveva lavorato che cos'era la ricchezza che lui aveva era un'eredità e si acuerda e si acuerda lo che le dico Gesù ricordate quello che Gesù ha detto lui dice io voglio il regno di Dio Gesù ha detto va bene vende tutto quello che hai in tale povere per caso che Gesù era la parola di Dio e non riceverà cento volte di più su questa terra e nel secolo che verrà la vita eterna il regno che verrà la vita eterna è per esseri celestiali è per persone che hanno una mente molto alta è per ministeri con una mente molto complessa in Dio che hanno una mente completa in Dio tiene che ver con atrevermi tiene che ver con animarmi atrevermi con avere desiderio a vivere tutto o niente se sta entendendo il principio seria di la siguiente maniera il principio è della seguente maniera voglio essere figlio e quindi voglio la heredità spiritual di mio padre però se voglio la heredità di mio padre tengo che atrevermi a soltar in alcun momento della vita mi devo preparare a attare in un momento specifico della mia vita Dio preparerà il momento dove Dio mi proverà se amo di più a Dio o a qualsiasi cosa materiale che è sopra la faccia della terra tutti dobbiamo passare per questo posso arrivare a questo momento e posso riprendere questa situazione o posso arrivare a questo momento e posso dire a Dio a me e mettere tutto nella mano di Dio e detras di questo Dio cominciare a portare la gloria tu non avrai limite qual è il mio consiglio la cosa peggiore che ci possa passare è vivere in un ministerio a metà nella mediocrità la cosa più bella che ci possa passare è approfittare del momento e dimostrare a Dio che lo amo al di sopra di qualsiasi cosa materiale tu non se lo va a tenere che mostrare tutti i giorni basta una volta però da lì in poi arriverà la gloria arriverà tutto quello che deve venire sai che cos'è una generazione di uomini materialisti abbiamo una generazione di uomini materialistici cantano a Dio hablan di Dio parlano di Dio però quando arriva il momento di dirgli a Dio che lui viene prima di ogni cosa che lo tengo che ponere por encima a Dio di tutti che lo devo mettere in cima a tutte le cose materiali nessuno lo fa me stai comprendendo stai comprendendo per questo è molto importante che noi mettiamo lo spirituale soprattutto qual è l'unico estorbo estorbo qual è l'unico ostacolo per portare avanti la mia visione Gesù ci ha insegnato avere qualcosa per questo Gesù ha detto è molto difficile per le persone ricche perché l'uomo ha la tendenza a chiudersi sul materiale però nella Bibbia vediamo ricchi come Abrano che Dio gli dice dammi tuo figlio è l'unico quello che tu amas quello che tu amas per Abrano era molto più facile che gli avrebbero chiesto i soldi materiali a che gli chiedevano il figlio però Abrano non lo riuscò e Abrano però non riuscì sei pronto per ricevere lo spirito perché riceviamo le abilità io ho capito negli anni faccio parte della terza generazione di apostoli e attraverso del mio apostolo e del mio nonno l'apostolo del mio apostolo andiamo a coprire all'incirca mille chiese in tutto il mondo con noi tre però io ho capito che non deberia llegar nadie al ministerio che nessuno deve arrivare al ministerio se prima non dimostrò a Dio che è capace di dejarlo tutto per lui lo migliore sarebbe che nessuno arriverebbe al ministerio perché l'unica cosa che fa si farà male da solo per questo vediamo tanti pastori che hanno bisogno tanta gente limitata tante persone che sono limitate mai Gesù ha stabilito un sacerdozio così il sacerdozio che Dio ha stabilito è glorioso però ci sono i principi si sta capendo ci sono persone qui che sanno che Dio le ha chiamati per servire in Italia o nel mondo io voglio fare una orazione io voglio fare una frichiera perché voi e io possiamo prendere grandi decisioni nella nostra vita perché in Italia possiamo elevare ministeri in questa direzione dice la gente che non si può in Europa dice le persone no, non è possibile in Europa però sì è possibile sì, si può totalmente possibile è totalmente possibile totalmente totalmente negli anni di crisi di questa nazione succederanno cose molto grandi e in questo ministerio in futuro passeranno queste cose la gente traerà le loro cose in Chiesa in Chiesa in Chiesa è molto buono che il governo ci appoggi però non mi deixa tranquillo però questo non mi lascia tranquillo quello che mi deixa tranquillo è quando i figli vengono all'altar per la herenza di un padre quello che mi lascia tranquillo è quando i figli vengono all'altare per l'eredità del padre questa è eredità anche se qua il governo dà cose a voi nessuno le assicura l'eredità mi state capendo il governo non le può assegurare l'eredità il governo non vi può dare un'eredità spirituale l'unica forma di ricevere l'eredità l'unica maniera di ricevere un'eredità spirituale è lasciando la mia eredità facendo vedere a Dio che sono disponibile a dipendere unicamente da Lui e domani Dio ti farà ti ingrandirà sulla terra Dio non ha limite per benedirti io credo che Dio vuole fare questo con questa chiesa e so che vanno succedendo cose così nel futuro principi come quelli che abbiamo seminato questa mattina faranno crescere questa casa senza limiti e usciranno fuori ministri altamente efficaci con un respaldo del cielo molto grande con un rinforzo un sostegno da parte del cielo molto grande sei disposto a ricevere in quest'ora sei disposto a cruzare questa linea allo sovranaturale sei disposto ad incrociare questa linea del sovranaturale al sovranaturale in che cosa consiste l'eredità in tutto quello che è di carattere spirituale a me il Signore mi chiamò nel anno 2000 all'Evangelio nel 2003 Dio mi ha dato una parola per l'Europa nel 2004 mi ha posto il vino a Spagna e Dio arrivò e stavamo come 400 pastori e quando arrivai c'erano 400 pastori uniti e Dio mi ha detto quello che avrebbe fatto in Europa Dio mostrò qualcosa in Europa e Dio mi parlò e questa notte Dio mi parlò e Dio mi ha detto vuoi essere uno e Dio gli ho detto sì e Dio mi ha detto dammi tutto quello che hai io avevo la mia casa avevo la mia macchina e mi lavoro avevo il mio lavoro e ho detto a mia esposa alla mia moglie io seminarò tutto questo per il ligno di Dio perché Dio mi va a sacare dell'anonimato mi va a dar una parola non mi ha detto ti darò mi ha detto ti darò una parola ti darò parola se Dio ti rivela la parola ti ha dato tutto tutto perché la Biblia dice che non c'è niente di più prezioso che la sabiduria che la sapienza non ha prezzo poi pagano mille di euro e dollari per ascoltare la sabiduria degli uomini la sapienza degli uomini però la sabiduria è il segreto io ho parlato con il mio apostolo e mi ha detto va bene io vado quello che ho seminato Dio me lo ha devuelto moltissime volte Dio me lo ha fatto tornare indietro moltissime volte moltissime volte Dio non ha limiti però è una parola il segreto è che Dio ti faccia vedere di un disegno sei pronto affinché siamo questa generazione di ministri Italia ha bisogno di queste persone che danno di più per Dio che amano le cose spirituali di sopra di tutte le cose naturali sei disposto questa notte che incrociamo questa linea sei disposto sei disposto sei disposto si si chiuditi e chiudate se vuoi mettiti in piedi come vuoi come ti senti più comodo vieni seguito signor signore stiamo orando per questa generazione di uomini in questo benedetto paese e noi abbiamo solo parlato della tua parola abbiamo messo il tuo disegno nel cuore di questi uomini e io sento nel mio spirito che qui c'è gente molto giovane che oggi è nell'anonimato però dice Dio io ho preparato una piattaforma perciò ti sto dicendo questa cosa oggi vas a essere parte di una generazione di rilievo in questa nazione io vado a cambiare il sacerdocio che è di turno e lo vado a rilevar per un sacerdocio che mi oye e lo vado a trasformare in un sacerdocio che mi ascolta che mi ha amato che mi ama di più a me che qualunque altra cosa sulla faccia della terra per questo ti sto dicendo questo in questo tempo io vengo con questo grano nella tua vita vengo in questa notte per trasformare qualcosa dentro di te per preparare il tuo cuore per prendere grandi decisioni per il tuo destino per il futuro al tuo ministerio è il tempo dell'Europa non devi avere paura per questo sto portando un risveglio della mia parola nel tuo cuore e ogni cosa che si è liberata questo giorno sta stabilendo nel tuo spirito c'è un sì per confidare nel profondo del tuo spirito nello spirito tu sta capendo che è così per questo prepara il cuore per alzarti io voglio che tu dica con me questa sera al Signore mi alzerò in questo continente mi alzerò del mio paese ci sono persone qua molto giovani che serviranno che Dio le mostrerà come in un video lo che Dio farà con la tua vita ho messo una passione per la mia parola dentro di te ho messo una passione sei una persona che cerca la verità io quiero che lo escuche il Espirito Santo io quiero che lo escuchen la parte importante del messaggio Lui ti ha parlato ora usted e io le tenemos que decir a Dio quanto le hemos creído ahora usted e io le tenemos que decir a Dio hasta donde estamos dispuestos a llegar con ahora viene el momento donde usted le tiene que demostrar a Dios cuanto entendió y que para usted no ha sido una reunión más donde usted no lo dejará hablando solo a Jesús no lo deje hablando solo esta es la noche donde usted tiene que mostrare a Dios a donde quiere llegar donde tu devi mostrare a Dio fino a dove vuoi arrivare porta la tua grazia porta la tua grazia porta la tua grazia nos preparamos para recibir tu herencia yo le he dado una chiave al pueblo y le he puesto en la mano de estos uomini en esta noche queremos cruzar esa puerta o persona sabe que hay una persona que le ha preguntado a Dios que una ser yo que ha chiesto a Dios cosa devo dare a fare perché sono nato o o rem maturo muri matala cara vantone oram di carabra vaiso todo mundo prepare su corazón porque Dios te quiere mostrar para que has nacido y Dios te quiere dar las herramientas para desarrollar tu llamada Questa serata non la possiamo chiudere così, non possiamo chiuderla solo con le parole, dobbiamo dare l'opportunità ad alcune persone che questa sera possano venire con la propria erenità, che sanno che sono nate per vivere cose molto grandi, che in questa notte Dio vuole rivelarle a qualcuno il nome, ti adoriamo, ci sarà qualcuno che questa notte avrà il cuore di Abramo, che può venire all'altare avanti e portare quello che più amo, l'unico, perché Dio gli dia la propria erenità. Ci sarà qualcuno qua, con questa naturalezza, Gesù le dico a questi uomini, a questi credenti, se tu saresti figli di Abramo, faresti le opere di Abramo. Ci sarà qualcuno qui, un Abramo per questa nazione, io voglio che se ce n'è uno, se ce ne sono due, io voglio che tu prenda qualcosa questa sera, qualcosa che tu ami, qualcosa di unico, e vieni avanti che così io posso pregare per te, per favore.